Lasciati tentare dal gusto leggero di una mara, difesi che foglie di tè e germogli delicati, muovite per diritto il piramide. Cento anni fa, qui a Carrot, scopri i ticchi di mais, tostati a dovere, si trasformavano in fraganti fiocchi durati. Anche oggi i Carrot Sconflex sono gli originali fiocchi di mais, con tutta la semplicità e naturalezza dei cereali. Scopri la nuova convenienza di Carrot Sconflex. Scopri la nuova convenienza di Carrot Sconflex. Scopri la nuova convenienza di Carrot Sconflex. So ride walk trail. Ride walk trail. Grazie a tutti.